L'ufficio relazioni col pubblico del Comune di Trieste in forma itinerante, in forma mobile. Abbiamo il furgoncino proprio del Comune di Trieste che si sposterà di settimana in settimana in piazza in piazza. Assessore Giorgi, venga a illustrarci i dettagli di questo servizio. L'abbiamo già detto, si sposterà l'ufficio delle relazioni col pubblico del Comune di Trieste per dare voce alla cittadinanza. Ma certo, il Comune va dai cittadini per sentire le problematiche, per raccogliere le informazioni, per raccogliere i consigli. In questo caso il principale protagonista è piazza Sant'Antonio con il nuovo progetto, ma com'è logico siamo qui per sentire le lamentele che ci sono dai cittadini e per i problemi che ogni giorno vanno a colpire i rioni, in questo caso siamo a San Giovanni, la prossima settimana mercoledì saremo a Roiano, poi a San Giacomo. E' un modo non nuovo, forse vecchio, di riportare fisicamente, non soltanto con i social, il Comune verso i cittadini. Cosa è pervenuto finora da parte della cittadinanza? Quali le richieste e quali le domande? Ma allora sulla piattaforma partecipativa c'è interesse soprattutto per quello che riguarda Più Verde e la conferma della fontana in piazza Sant'Antonio. Per il resto i problemi quotidiani, che sono il buco sulla strada, che sono la mancanza di parcheggio, che sono il verde, che sono le asfaltature, che sono i lavori pubblici. Noi andiamo a raccogliere e poi, insomma, come facevo quando ero presidente di circoscrizione, vado a smistare i colleghi affinché affrontino le varie problematiche.